Ciao a tutti Giulini, io sono Mario G10, bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Oggi ragazzi andremo a parlare del probabile acquisto che farà il Trapani nella tre quarti definito da Antonini un colpo da 90, giocatore di categoria ben oltre che superiore. Oggi andremo a dire tramite delle fonti che mi sono arrivate quello che dovrebbe essere il calciatore che andrà a prendere il Trapani, se non sarà lui insomma si vedrà però dalle fonti che mi sono arrivate dovrebbe essere lui il nuovo acquisto da 90, il colpo da 90 del quartista del Trapani. Mi raccomando prima di iniziare con questo video lasciate un bel impiace ed iscrivetevi al canale che è molto molto importante perché già siamo quasi a 500 iscritti e ad arrivarci prima della fine dell'anno sarebbe per me un traguardo importantissimo. Inoltre oggi il 27 luglio oltre che partirà il ritiro del Trapani è anche il giorno del mio compleanno quindi auguri a me è questo. Andiamo subito a svelare il nome che potrebbe essere l'acquisto del Trapani sulla tre quarti, il nome dovrebbe essere Oliver Kraglio, nato il 12 maggio del 90 quindi a 33 anni, luogo di nascita Wolfsburg in Germania, altezza 1,79 posizione centrocampista di sinistra. Quest'anno ha giocato a Messina nel girone C ed è rosa appunto dall'11 gennaio del 2023 il suo valore e si aggira attorno ai 350 mila euro. Siamo a più ruoli, diciamo può giocare o centrocampista di sinistra o centrocampista proprio centrale, può fare anche il tre quartista e può giocare addirittura anche terzino sinistro quindi per farvi capire tutti i ruoli che può fare. Inoltre il suo valore più alto l'ha raggiunto nel 2019 dove addirittura valeva 1 milione e 700 mila euro. Andiamo a vedere la sua carriera perché cresce nel Wolfsburg Under 17 per poi passare al Wolfsburg Under 19, poi va al Brownshake dove sta per Brownshake 2 quindi sarà la squadra diciamo la primavera di questa squadra. Poi va al Brownshake proprio la squadra, la prima squadra per poi andare all'Alberstad dove sta un anno, poi va al Babelsberg sempre tutte squadre tedesche e poi si trasferisce in Austria al Ried. La Ried va in serie B al Frosinone per 700 mila euro e qui diciamo parte della sua carriera in Italia perché poi dal Frosinone va al Crotone per 900 mila euro quindi parliamo sempre di serie B barra serie A, poi dal Crotone se ne va al Foggia per 800 mila euro e dal Foggia ritorna al Crotone per 1 milione e 300 mila euro. Poi dal Crotone va di nuovo al Crotone e poi se ne va a titolo definitivo dal Foggia al Benevento nella stagione 19-20 dove c'era il Trapani in serie B e il Benevento che arrivò primo in serie B quella stagione c'era lui appunto che arrivò in serie A dalla serie B assieme al Benevento. che si trasferì per 1 milione e 500 mila euro. Nella stagione dopo quindi quando il Benevento era in serie A se ne va in prestito all'Ascoli per poi ritornare per 700 mila euro al Benevento. Poi nella stagione 21-22 è stato svincolato e poi a gennaio l'ha preso l'Avellino per 500 mila euro in serie C. Dal Lavellino poi l'ha preso il Ried di nuovo ritorno in Austria per 500 mila euro e infine da Ried a titolo gratuito è passato per 350 mila euro al Messina. Dunque andiamo a vedere un po' di statistica. In serie B ha fatto 129 partite, 22 golle e 26 assist. In Bundesliga ha fatto 90 partite, 12 golle e 21 assist. In terza liga spagnola, quindi in teoria la serie B ha fatto 52 partite, 5 golle e 5 assist. Poi in serie C, Gironne C ha fatto 26 partite, 6 gol e 8 assist. In serie A ha anche giocato appunto, ha fatto 20 partite e un solo golle. Ha fatto più di 1000 minuti in serie A. Poi vabbè diciamo ha giocato poi in Germania, in Coppa Italia serie A ha fatto due partite per un totale di 114 minuti tra subentrato e titolare e poi ha giocato diciamo playoff serie C, playoff serie C, insomma un gran calciatore che tramite fonti che mi sono arrivato dovrebbe essere appunto il colpo da 90 sulla tre quarti che sta cercando il Trapani. Sono usciti anche altri nomi come Gaston Ramirez ma per le mie fonti che mi sono arrivate dovrebbe essere lui. Il nuovo colpo da 90 che andrebbe a chiudere il mercato assieme a Sbrissa quest'anno alla Cire A ha anche lui grandissimo colpo. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, vi raccomando se fosse così lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale. Mi raccomando condividete questo video per far sempre più conoscere il mio canale e arriviamo entro fine anno a 500 iscritti per così che io porti sempre più nuovi contenuti e sempre più interessanti. Ci vediamo ad un prossimo video, ciao!